Buonasera a tutti, una volta si diceva radioascoltatori, adesso diciamo ascoltatori di Radio Sherwood, e con una certa emozione tra l'altro che mi presento, qui sono Matteo Marenduzzo, alla mia prima intervista della band che ha calcato il palco della serata di stasera, Galassia Club, complimenti tra l'altro, che abbiamo come ospiti, intanto ricordiamo che siamo sulle frequenze di Radio Sherwood, Sherwood.it, allora passando al live di questa sera, dopo la vittoria dell'Italia, si sono esibiti sul main stage di Sherwood i Galassia Club, che ho qui presenti, tra l'altro bellissimi, se volete anche presentarvi. Io sono Tommaso, io sono Giovanni. Belli e dannati tra l'altro, giovani per quanto mi riguarda purtroppo, ben per loro. Allora, loro sono usciti nel 2020 con il loro album omonimo, Galassia Club, per una cordata di etichette. Ricordiamo quindi, senz'altro, sotterrani, cari amici sotterrani qui di Padova, che stanno facendo un ottimo lavoro sia come organizzazione peraltro di eventi, live, concerti, che come etichetta discografica. La clinica dischi emergente etichetta di La Spezia, che tra l'altro annovera nel loro roster anche alcuni personaggi di spicco, tra cui qualche X-X Factor. E questa Yoho, nuova etichetta di Padova, nuova, fondata nel 2018, comunque molto recente, di cui magari adesso andremo anche a capire qualcosa dei nostri cari Galassia Club, che tra l'altro ci aggiornaranno, ci diranno qualche info. Ma prima domanda, sono logoroico, quindi l'avrete già capito. Come è stato ripartire live? Perché ricordiamo che il disco peraltro è del 2020, uscito più di un anno fa, un anno e due mesi fa, e mi verrebbe da dire, ripartire live è anche in un contesto come quello di Radio Sherwood, che non è proprio la sagra della salsiccia, diciamo. Assolutamente no. Parti te? Parto io? Beh, dal mio punto, cioè, personalmente è stata una bomba, siamo molto molto contenti, e anche perché appunto, come hai detto, era molto tempo che non suonavamo, quindi quasi un paio d'anni, ovviamente da quando è cominciata tutta questa bella storiella. Abbiamo fatto solo un evento live a febbraio 2021, che era appunto un concerto in streaming su Twitch, nello studio di Yo Records, che appunto è un'etichetta, ma al contempo in centra, diciamo, quello che fa è molto agenzia di produzione multimediale e audio-video. È uno studio di registrazione, fanno video, sono molto bravi in quello. E partire così a Sherwood non potevamo chiedere di meglio, ovviamente. Allora, voi uscite nel 2020 con un disco omologo, omonimo, Galassia Club, ma l'aneddoto è che in realtà voi vi chiamavate Venere. Leggo spulciando da internet, ho trovato questa cosa dalla newsletter dei sotterrani. Cambiamento poi con questo disco in Galassia Club. Volete darci delle info maggiori? Come mai? Cos'è successo? Beh, è stata un po' una scelta dettata da esigenze, nel senso che ci è arrivata essenzialmente davvero, raga, cioè, siamo in Galassia Club, siamo Venere, e ci è arrivata una diffida di un avvocato. Cioè, davvero, non è che sto dicendo una cazzata, tipo Asis. È arrivata la diffida dell'avvocato esattamente il giorno prima, il disco usciva venerdì. Ci è arrivata questa bellissima mail il giovedì. E quindi presi così dal panico esce il disco, il nostro primo disco, a cui abbiamo lavorato comunque per un paio d'anni, ce li abbiamo dedicati, l'abbiamo registrato un paio di volte, per poi finire a registrare la versione che trovate su Spotify o al banchetto, se volete la versione fisica. Siamo finiti a registrarla in Liguria e molto semplicemente ci è arrivata questa diffida per la quale noi, Venere, non potevamo più chiamarci Venere, perché una persona non voleva questa cosa. Ed è bellissimo, peraltro. Ed è bellissimo, è stato in realtà più che bellissimo per noi, è stato abbastanza ansiogena la situazione e la scelta migliore che abbiamo trovato era dare il nome dell'album, era Galassia Club, trasportarlo come Galassia Club Band. Quindi in un giorno abbiamo modificato le grafiche, abbiamo cambiato Spotify, abbiamo cambiato scritto al distributore, per due giorni avevamo il doppio profilo, quindi c'era il profilo Venere in cui stava uscendo il disco e il profilo Galassia Club in cui stava uscendo sempre il disco. Niente, più o meno è andata così. Comunque diciamo che avete anche mantenuto una sorta di coerenza per quanto riguarda il nome. Sì, assolutamente sì. Tra Venere e da pianeta siamo diventati Galassia. Esatto, quindi siete ancora più grandi. Voi parlate diciamo di contemporaneità, della quotidianità. La domanda che mi viene anche un po' retorica se vogliamo in questo periodo è qual è la quotidianità oggi? Come avete vissuto questo ultimo anno in cui peraltro avevate un disco che avreste dovuto promuovere e non avete avuto la possibilità di farlo? Beh, penso che a questa cosa ti sa per rispondere molto bene lui perché penso che abbiamo vissuto questo periodo lavorando ad altro materiale e scrivendo come si viveva in questo periodo e lui ha saputo molto bene diciamo mettere nero su bianco questa cosa con appunto i pezzi nuovi che abbiamo suonato oggi sono frutto di questo periodo. Sì, diciamo che questo periodo di isolamento è l'unica maniera che ci siamo trovati così da un giorno all'altro a trovarci al bar alle strasse qua a Padova al giorno dopo che non potevamo più vedere i nostri amici, non potevamo più vedere le nostre fidanzate, non potevamo più vedere nessuno. E questa è una cosa che comunque bene o male, cioè in un primo periodo io almeno ho pensato cazzo figo ok, ho un attimo in cui posso dedicarmi al 100% a tutto quello che ho in testa, a tutto quello che ha la mia creatività in questo momento. E' diventato veramente difficile dopo quel primo mese, quei primi due mesi fai un attimo davvero i conti con te stesso, ti ritrovi ogni giorno a viverlo sempre uguale. E la mia reazione è stata proprio di getto scrivere canzoni nuove. Fortunatamente a casa mia ho un garage che ho riadattato grazie ai miei genitori, sono riuscito a renderlo una saletta bene o male suonabile e ho investito un po', mi sono comprato un microfono in realtà. E ho iniziato a scrivere pezzi nuovi con un'altra ottica, in quel periodo ero proprio in fissa, cioè è iniziato il lockdown, chiuso a casa, ho iniziato a riascoltarmi dischi che magari non ascoltavo da tanto tanto tempo, 4-5 anni. Ho ripreso in mano gli Arcade Fire, in particolare Funeral, in particolare Refractor, ho ripreso in mano un po' di ascolti dei miei 16 anni proprio di indie rock base insieme alla trilogia di David Bowie e ai dischi di Brian Eno e quindi mi sono fatto le strategie oblique che avevo già da parte in casa. Hai presente le carte di Magic che avevamo, le bustine? Io ho giocato moltissimo Magic, ho un mazzo che ho speso migliaia di euro. Le bustine, grande, voglio sapere che mazza dopo. Sono un nerd dentro e fuori in realtà. Dopo voglio assolutamente sapere che mazza hai. Ho preso le bustine, ho preso dei fogli A3, di quelli che usavamo alle medie per fare i disegni tecnici. Ho scritto le strategie oblique di Brian Eno, poi ho messo le mie, che quindi le mie carti base suona come se fossi un'arancia. Tipo esci da te stesso oppure ripeti lo stesso errore all'infinito oppure essi più minimale possibile oppure questo accordo ti serve davvero. E quindi ho provato a cambiare il mio modo di scrivere, il mio modo di approcciarmi alla musica con questi ascolti che avevo dentro, con la volontà di fare un disco che poi volevo portare in giro in dieci. Ascoltando il vostro sound, una delle mie riflessioni è stata che, sì, come voi dite appunto, abbiamo una matrice indie pop, abbiamo, diciamo così, degli aspetti che richiamano i low five, ma qualcosa di dream pop. Parliamo soprattutto magari delle chitarre riverberate, molto caratteristiche per quanto riguarda il vostro sound, a mio avviso. rimane un disco vario nelle atmosfere. Quali sono, così, Brucio Appelo, Stoccadeo, come si direbbe, un riferimento in estero e un riferimento italiano? Allora, beh, intanto ti ringrazio, sono molto contento che sia passata questa cosa, che il disco è molto variegato, porta tante sonorità, tanti input anche da mondi completamente diversi. Come ascolto fondamentale della band mio, della composizione internazionale, ne citerai in questo momento due, che sono Mac DeMarco per quanto riguarda il primo disco, assolutamente. Aspetta che ti fermo, perché se non sbaglio, Mac DeMarco, può tornare anche in un certo Jesse DeFaccio, può tornare anche in un certo, un ospite che c'è stato a sera. Con Jesse siamo grandi amiconi, poi ci siamo trovati due anni fa, che... Beh, io sono nella band di Jesse DeFaccio e il basso. Esattamente. Quindi ci siamo trovati lì un giorno, che noi suonavamo in un pub, noi ci siamo conosciuti al Vizio Pub, che voi di Padua conoscerete tutti, in una situazione completamente assurda. Noi che suonavamo, lui e i ragazzi della band, Gamba, Novak, e lì che ci sono seduti là davanti, hanno ascoltato tutto il concerto, è partito poi i nostri pezzi, tipo ci siamo trovati ogni canzone, sono partiti i real estate, ci siamo guardati, Veccio, pezzone, sì, pezzone. E quindi è successo che noi eravamo in studio a registrare il nostro primo disco per la prima volta, seconda volta, e è arrivata la chiamata e io ho fatto il tour con Jesse, insomma suono nella band. Quindi Mac DeMarco sicuramente una grande divinità, una grande ispirazione per tutto quello che riguarda un po' il lo-fi, quelle sonorità più tranquille, quel chorus che è metà fra il ok tranquillo e il post psichedelico quasi alla fine, bene o male. Altra ispirazione fondamentale per noi, management, MGMT. Italiani, io devo dire per quanto riguarda me, la scrittura mia, che i testi li faccio io, bene o male, anche un po' la struttura degli accordi, degli arrangiamenti fondamentali, Blue Vertigo, Morgan e Franco Battiato. Ma una suggestione, questo album secondo me è anche molto estivo, ci sono dei pezzi, un pezzo che si chiama Estate, eccetera. Qualche rimando, un eco diciamo così, lo sentivo anche da sussidiario e illustrato della giovinezza dei Baustelle, io l'ho sentito... Sono gli ascolti che hai, per me almeno, cioè io avevo 16 anni quando c'è stata l'ondata con... Che io amo moltissimo. Un romantico a Milano. Esatto, vabbè, lì siamo già appunto sul terzo album, che è grandissimo. 2012, sì io ho... Io avevo qualche anno più di te però... L'ho vissuta veramente come la musica italiana che andava su un livello superiore, che non uscivano in Italia solo per dire i Finlay o quel tipo di musica là o i classici grandi, i classici grandi del pop diciamo, uscivano delle cose secondarie e insieme a tutte queste influenze qua che però sono un rimando molto grosso che mi hanno formato. E l'ultima domanda che vi farei è... Una domanda molto originale, diversa. Da adesso in poi, cosa succede? Da adesso in poi... Bella domanda. Nel senso che... E Marzullo, mi hanno detto che somiglio anche a Marzullo e potevo anche dirvi, fatevi una domanda e datevi una risposta. Però ho avuto farlo io questo. Guarda, pensando al futuro più vicino, in teoria abbiamo qualche concertino estivo, insomma continueremo a suonare, a fare qualche data. Avremo una data il 9 luglio, TBA, to be announced, che non diciamo dove. Veramente le rock star che dicono TBA, e quindi complimenti a voi. 20 anni di carriera non mi è mai successo, avevo tutti i concerti già definiti. E poi un paio a settembre, però vediamo, insomma, siamo... Viviamo la giornata, cerchiamo di trovarne e di farne il più possibile. Raga, salutiamo, ringraziamo lo Sharwood con tutto il cuore. Grazie mille. Per l'intervista, per il concerto, per l'accoglienza, per tutto, per far esistere Sharwood, appunto. Anche questa è una delle realtà che conosciamo da quando abbiamo 15 anni, e da quando abbiamo 15 anni non vedevamo l'ora di vedere il cartellone con il nome là. Quindi grazie mille, è stato veramente, veramente figo. e una botta di emozioni che non provavamo da un po'. Sono quelle che fanno la vita alla fine. Certo, a presto. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie.